Famiglie, imprese, sport e vita indipendente sono le priorità su cui, secondo il centro-sinistra, dovrà incentrarsi il dibattito politico del prossimo Consiglio regionale, con tre emendamenti che i consiglieri di IPD, Abruzzo in Comune, Gruppo Misto e Legnini Presidente, presenteranno al Governo guidato da Marsilio perché dia risposte concrete ai problemi degli abruzzesi. Firmatari dei tre emendamenti sono Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci, Americo Di Benedetto, Marianna Scoccio e Sandro Mariani. A farsene portavoce in conferenza stampa è stato il capogruppo del PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci. Sono emendamenti, ovvero proposte che il centro-sinistra sta portando avanti ormai da tre mesi e per le quali purtroppo non troviamo ascolto nel Governo regionale, nel Presidente Marsilio, che al contrario invece ci attacca anche in modo davvero vergognoso. Intanto Marsilio deve darci le sue scuse, non solo a noi ma alla comunità degli abruzzesi. Attacca in modo vergognoso le opposizioni, ma prima era compito del Governo. Dal momento in cui c'è Meloni al Governo il compito si sposta in Europa e i doveri si spostano in Europa, mentre altre regioni agiscono dando sollievo e attingendo a delle risorse per dare delle risposte. I nostri emendamenti parlano chiaro. 93 milioni di euro a disposizione per imprese e famiglie, tre per la vita indipendente, due per quanto riguarda lo sport, il settore che soffre essendo alcune strutture davvero energivore per quanto riguarda la crisi e lo shock energetico. Questi 93 milioni di euro dove li pescherà la Regione? Sono le risorse frutto di una mozione che già presentammo al tempo nel mese di settembre quando dicevamo che con la scadenza delle cartolarizzazioni, con il disavanzo, l'ammortamento che si poteva portare grazie alla norma che facemmo noi nella scorsa legislatura, 20 anni si sarebbero liberate appunto queste risorse, alle quali possono essere aggiunte le possibili rimodulazioni delle risorse europee, né più né meno di quanto hanno fatto altre regioni. Marsilio ci dica cosa vuole fare e si assuma i suoi impegni. Da ultimo noi vogliamo sollevare una vera e propria questione morale. Le indagini giudiziarie relative al mondo della sanità ci raccontano di un governo regionale sotto il quale ci sono relazioni inopportune tra potere pubblico e gestione delle risorse della sanità pubblica. Si è aperta una questione morale, su questo Marsilio deve darci le sue spiegazioni e le sue scuse.